Sì, oggi questo gol sicuramente è stata una grossa emozione segnare sotto la curva del Palermo, sotto i nostri tifosi però oggi in questa curva c'era un tifoso particolare che è un ragazzo che ha appena scoperto di avere un tumore a un polmone e purtroppo questa settimana siamo andati a portargli una maglietta io a Andrea Rispoli con tutti i nostri autografi quindi sicuramente la dedica va a lui che purtroppo sta vivendo questo momento brutto della sua vita e poi comunque una dedica speciale alla mia famiglia e al mio procuratore che mi è sempre stato vicino da quando gioco a calcio Sì, oggi per noi era fondamentale perché comunque si era creata attorno a noi una situazione non facile, un clima non sereno quindi per noi era fondamentale fare tre punti anche contro una nostra avversaria in zona salvezza quindi per noi è stata importante questa vittoria e siamo comunque molto contenti di questa prestazione Io, come ho già detto tempo fa, un ringraziamento al mister Iachini perché mi ha insegnato tantissimo però mister Ballardini ha avuto tanta fiducia in me ha avuto il coraggio di buttarmi fin da subito dentro, fin dalle prime partite e io sto cercando comunque di dargli più soddisfazione possibile perché comunque ha avuto fin da subito la fiducia nei miei confronti e io spero di ripagare la partita dopo partita Ma noi oggi dobbiamo pensare di accantonare subito questa partita e pensare subito alla partita di domenica perché per noi sarà un'altra partita decisiva e fondamentale e spero anche vivamente di chiudere questa annata con una bella vittoria fuori casa che ci può permettere anche di fare un Natale più sereno a tutti che comunque siamo veramente un gran gruppo con grandi valori sia umani che calcisti quindi spero vivamente di fare questa vittoria e passare un bel Natale Grazie